che una delle ragioni per cui il contagio, se volete, della primavera araba ha fatto un po' fatica a penetrare nel resto del continente perché quell'esperienza c'è già stata, è andata anche in un certo modo non del tutto negativo o semplicemente negativo, io non sono d'accordo nel semplicemente liquidarla come una cosa puramente negativa ma c'è già stata una fase di questo tipo che in realtà ha preceduto quella araba cioè mi ricordo che vent'anni fa noi ci dicevamo esattamente l'Africa si muove, il mondo arabo sta fermo cioè era esattamente questa la cosa che si dice ora perché ricordo questa cosa? la ricordo non per ragioni filologiche ma perché l'esito di quell'esperienza assieme a certi processi di sviluppo per come sono avvenuti dopo la fine della guerra fredda e soprattutto negli ultimi 10-12 anni, cioè negli anni 2000 direi sono esiti che hanno visto una strana combinazione probabilmente non così assurda e cioè di un consolidamento di sistemi che sono apparentemente formalmente hanno alcune caratteristiche democratiche cioè per esempio hanno più partiti, si tengono elezioni non ovunque però insomma in molti casi si tengono elezioni, c'è un qualche tipo di dialettica di dinamica anche politica anche con la società civile si è aperto il sistema, ci sono più leggi che proteggono i diritti per esempio i diritti civili oppure la libertà di associazione oppure i media, vecchi e nuovi però sostanzialmente si sono consolidati dei regimi che mantengono caratteristiche formalmente democratiche e quindi vanno bene diciamo per la comunità internazionale ma che di fatto mantengono degli elementi di autoritarismo reale molto forti a volte un po' soft cioè non così pesantemente magari repressive però che sostanzialmente mantengono il gioco politico all'interno di una cerchia molto ristretta molto controllata dall'alto, molto verticale con pochissima reale partecipazione politica e che tiene in mano soprattutto le leve fondamentali delle grandi decisioni e le grandi decisioni secondo me sono quelle che riguardano l'economia e quelle che riguardano le questioni sociali cioè la spesa sociale, l'istruzione, la sanità, le abitazioni l'accesso alla cittadinanza sociale per dire una parola sola qua si è creato una non da ora in realtà già dagli anni 80-90 una cosa a mio avviso abbastanza interessante io mi sto chiedendo appunto proiettandolo sul futuro cosa può succedere cioè che la comunità internazionale in qualche modo sia accontentata di avere delle forme relativamente formali scusate il bisticcio di democrazia politica soprattutto di democrazia elettorale più qualche legge, qualche costituzione che andasse in quel senso purché purché venissero applicate una serie di ricette di tipo così definite diciamo neoliberistica del giustamento strutturale in campo economico il cortocircuito dov'è? il cortocircuito è nel fatto che da un lato si dice c'è la democrazia e vogliamo la democrazia e dall'altro si dice si può discutere tutto fuorché quello che è tecnico e quello che è tecnico è l'economia e il sociale ora io naturalmente la domanda che pongo e che pongo in genere i miei studenti non è una domanda nuova in realtà è una domanda più dell'Africa degli ultimi vent'anni forse che del futuro è se nella democrazia non potete discutere come ripartite il reddito le scelte macroeconomiche chi fa i sacrifici e chi non li fa e come spendete i soldi dello Stato mi chiedo di cosa discutete perché se quello è riservato a un ambito tecnico la ricetta è tecnica ed è solo quella quella possibile e non si può discutere se no si è e la banca mondiale usa sempre questo termine corporativi qualsiasi protesta è corporativa in Africa e non solo in Africa mi sembra di capire cioè se tutto quello che protesta rispetto a scelte governative è liquidato come interesse corporativo non talmente voi capite che il dibattito cioè l'arena possibile del dibattito politico e della partecipazione reale alle decisioni si restringe molto qua quello che sicuramente è successo negli ultimi vent'anni è che la comunità internazionale che dopo la fine della guerra fredda aveva molto spinto ovviamente sul processo democratico si accorta che spingere sul processo democratico comportava un allargamento anche della tensione del conflitto possibile del conflitto sociale cioè che la democrazia prevede anche delle forme di conflitto e in Africa in modo particolare si sono aperti dei conflitti che non erano semplicemente sociali sono stati conflitti armati molto duri molto pesanti dalla Liberia alla Sierra Leone al Congo al Somalia ovviamente un numero di casi molto alti e molto frequenti in Africa e particolarmente sanguinosi che hanno messo molto a repentaglio la stabilità di questo continente quindi c'è stato secondo me una specie di scambio a un certo punto lo dico in modo molto semplice tra il valore della stabilità e il valore della democrazia cioè se c'era qualcuno che poteva garantire un qualche tipo di stabilità e quindi anche di prospettiva di sviluppo di crescita di continuità in una politica rispetto al rischio di un conflitto molto aperto allora tutto sommato si è andato a preferire l'elemento della stabilità un pochino a scapito della partecipazione politica potrei fare molti casi l'Angola è sicuramente uno di questi potrei fare molti casi di questo tipo secondo me è un processo molto evidente la cosa che secondo me ci si può chiedere oggi è un po' questa noi oggi la ragione è pieto stiamo assistendo a ritmi di crescita assolutamente vertiginosi in Africa in questo momento a livello comparato con altre aree del mondo e soprattutto rispetto all'Africa di vent'anni fa o di dieci o quindici anni fa in realtà non è così recente dai primi anni 2000 che sta che sta avvenendo con ritmi attorno al 5-6% l'anno mediamente vorrei far notare perché questo chi sta proiettando i dati se lo sta dimenticando ma fa parte del loro mestiere in realtà c'è stato un grosso sboom nel 2008 cioè 2008 2009 c'è stata una decrescita abbastanza forte in Africa il che sembrerebbe dimostrare che ed è questo un po' il mio dubbio che questa è sì una forte crescita però a me sembra che abbia tre caratteristiche che mi fanno molto dubitare della sua durata devo dire la prima è che è molto legata già lo diceva Pietro a un modello molto classico c'è un modello in realtà di domanda delle materie prime del petrolo e delle materie minerarie anche riaprendo settori che erano stati chiusi cioè un caso molto evidente è quello del rame in Zambia dove le miniere di rame erano state chiuse i cinesi li hanno riaperti perché per loro anche anche il costo marginale di quel rame è interessante mentre le compagnie occidentali non le ritenevano più redditizie però questo è un modello molto classico cioè la domanda internazionale di materie prime che fa crescere l'economia africana il rischio è che quando questa domanda si ferma come è successo nel 2008 appunto 2009 l'economia africana si trova di nuovo a rallentare e uno dei timori in questo momento effettivamente è un rallentamento forte dell'economia cinese dove esserci un forte rallentamento dell'economia cinese effettivamente potrebbero esserci dei riflessi molto negativi sull'economia africana cioè da questo punto di vista io non vedo francamente molto di cambiato sul piano della struttura complessiva dell'economia africana rispetto a 10 o 15 anni fa il secondo elemento che secondo me ha un certo interesse e che viene poco ricordato e che ha a che vedere anche con alcune questioni sociali come la demografia oppure il ruolo dei giovani è che questa è una crescita che in realtà non sembra stia creando molto lavoro non si vedono grandi crescite di posti di lavoro in Africa dietro questa anche perché alcuni di questi settori sono occupati in realtà da lavoro straniero o in parte da lavoro straniero e questo se continuo a vedere cito proprio un elemento molto così molto banale naturalmente questo non vuol dire che non possa succedere cioè tra un po' di tempo però per ora non sembra stia succedendo molto c'è un paese come Sudafrica per esempio che sta tirando moltissimo anche perché c'è l'oro c'è molte materie prime l'occupazione l'occupazione giovanile l'occupazione dei giovani neri rimane assolutamente ferma non si riesce a fare un passo avanti rimane assolutamente ai livelli che era della partede e la disoccupazione colpisce tutti i giovani urbani i giovani sotto i 25 anni i giovani neri esattamente come prima se non in alcuni settori per esempio i servizi nuove tecnologie ovviamente c'è qualcosa che si muove ma non ancora così significativo questo è importante perché è chiaro che uno credo che fosse Gianleone leonardi parlerà meglio di me ma questo è un altro fenomeno che si è già molto visto uno dei fenomeni più importanti in Africa è il ruolo ovviamente dei giovani cioè di cosa fanno i ragazzi di 20 anni che sono centinaia di milioni in questo momento in Africa e che non hanno ancora grandissime prospettive davanti c'è una grande creatività c'è una grande capacità di muoversi anche di autoimpiego di fare business probabilmente da parte di questi giovani africani diventarsi mestieri eccetera ma ancora non c'è la sensazione che questi giovani possono essere assorbiti in modo compiuto in modo come dire appagante per ragazzi di quell'età all'interno di questa crescita e non ho usato il termine appagante a caso perché se c'è una novità forse nuova è che i ragazzi africani cercano qualcosa di appagante cioè che non è semplicemente una questione di trovare un lavoro di avere qualche quattrino per sopravvivere ma anche di fare qualcosa che sia in qualche modo soddisfacente per la loro crescita personale qua si capisce anche su questo non entro ma perché tanti africani continuano ad andarsene dall'Africa e raramente a tornare cioè anche quelli che vanno fuori a studiare continuano ad esserci per esempio un brain drain dall'Africa c'è una fuga di cervelli veramente impressionante ancora oggi e qua forse dico una sola altra cosa poi mi fermo poi spero che avremo magari possibilità di tornare su questa cosa Pietro citava la questione del cetomedio il cetomedio si sta allargando non c'è dubbio alcuno su questo in Africa però una delle previsioni che noi cioè noi l'ambiente studioso l'ha fatto vent'anni fa e cioè che il cetomedio africano in via d'allargamento comunque quel ceto anche di formazione imprenditoriale o proto imprenditoriale o manageriale che cominciava a facciarsi che sicuramente in alcuni paesi non so Kenya a molti altri paesi è un gruppo anche abbastanza consistente sarebbe diventato quello che avrebbe messo sotto scacco i regimi autoritari i regimi partito unico questo non è avvenuto cioè io credo che noi ci dobbiamo chiedere perché la classe media in Africa non è una classe media democratica cioè perché la classe media in Africa fa un accordo col potere politico di tipo sostanzialmente accomodandosi dentro almeno per ora accomodandosi dentro i sistemi autoritari tolgo da questa visione ovviamente la classe media se volete intellettuale che ovviamente ha una funzione diversa la classe media è il tipo più manageriale imprenditoriale nuovi ricchi eccetera si accomoda dentro l'autoritarismo invece che in realtà contestarlo almeno per ora il dubbio che mi viene è che continua a esserci un problema di formazione della classe dirigente in molti di questi paesi non in tutti o comunque di una classe dirigente democratica abbastanza allargata da poter fare una massa critica che comincia a fare una differenza guardate su questo finisco noi abbiamo un caso come dire a rovescio per così dire che secondo me è molto interessante è un caso che a me sta molto a cuore e che io tendo fra l'altro istintivamente simpateticamente a difendere di solito che è quello del Sudafrica se c'era un paese che aveva tutte le premesse per far emergere una classe dirigente molto dinamica una classe anche apprenditoriale manageriale intellettuale di media e nel Sudafrica naturalmente anche rispetto al resto del continente quello che stiamo vedendo è che è una situazione molto pacca da questo punto di vista con interi pezzi di questo ceto medio emergente di nuovi arricchiti che in realtà non solo entra nel potere ma lo gestisce ne trae dei vantaggi fa un compromesso con questo potere invece che sfidarlo veramente questo è l'impressione che noi abbiamo un quadro abbastanza nuovo ma un quadro in cui ci si assesta o ci si sta assestando forse su un modello che in cui c'è un certo tipo di crescita che si accomita dentro qualche forma di autoritarismo relativamente stabile modello che è avvenuto in parte anche in Asia quindi non è vabbè finirei qua per ora almeno grazie buonasera grazie dell'invito innanzitutto l'invito è particolarmente gradito perché mi avete tolto dalla cappa di piombo che sta su Roma in questo momento per passare questa serata qui e parlare di cose belle nobili utili anche forse e vengo volentieri a Pordenone la seconda volta in meno di tre mesi essendo venuto alla festa dei popoli recentemente organizzato in un grande tendone dai padri combugnani e alcune comunità africane quindi vi ringrazio di questo e poi vi ringrazio anche perché ho rivisto Pietro Veronese e la professoressa Ercolessi che conosco da tantissimo tempo e con il quale c'è stato anche un interessante scambio di arricchimento reciproco tra noi africani della diaspora africana che vivevamo in italia loro che cociutamente con grande determinazione hanno continuato a tenere alto come dire il tema dell'Africa delle sue prospettive della sua cultura lui come giornalista e lei come insegnante però di quella docenza che si fa anche militanza culturale ecco quindi sono molto contento di questo e riprenderò ovviamente alcuni dei temi che sono stati affrontati sia da Pietro cominciando dall'analisi che faceva e che a me offre una chiave di lettura interessante dell'Africa di oggi l'idea che noi abbiamo dell'Africa arcaica di sé non avrebbe niente di male l'Africa arcaica se prendiamo per arcaica il senso letterale della parola archè principio perché chi se non l'Africa ha la titolarità di essere arcaica perché è il principio della vita della specie umana il luogo straordinario dove i nostri antenati hanno compiuto questa bellissima trasformazione dalla condizione di scimio antropomorfo alla condizione di homo sapiens sapiens quindi sì l'Africa è arcaica l'Africa è primordiale sotto questo punto di vista veniamo tutti dall'Africa anche anche Calderoli bisogna che qualcuno glielo spieghi un giorno che anche lui viene da questo continente però dietro dietro quest'idea dell'Africa arcaica invece si cela quella che si può rintracciare nella storiografia occidentale nel contatto multisecolare ormai tra l'Africa e l'Europa nella messa in gerarchia tra culture e civiltà lo sguardo etnologico ha collegato il continente africano in una specie di staticità attemporale il continente senza tempo che non ha né un prima né un dopo sta lì rinchiusa nella sua immobilità statica che ha permesso poi a gente come Hegel di dire l'Africa è il continente senza storia e la legge dei tre stadi di Auguste Conte è stata letta per tanti come l'Africa situata proprio nella scala più bassa e la schiappa della storia umana diciamo diciamo così gli stessi romani hanno in questo modo capito il fatto che non avevano travalicato i confini dell'Africa cosiddetta europea bianca e quindi tutto il resto era l'Ixunt Leones la terra incognita perché accanto alla staticità c'è poi l'idea della inconoscibilità di questa Africa è una cosa impenetrabile quantomeno per noi occidentali lì accadono delle cose non riconducibili a razionalità accadono delle cose strane le cose africane appunto un macello non ci si capisce niente non possono essere ricondotte a razionalità a comprensione traducibile e comprensibile per noi e questo ha impedito a lungo secondo me un avvicinamento laico cioè di apertura di conoscenza ecco gli studi della professoressa Herculesi e insieme a lei altri ancora gli articoli di Pietro sono stati degli elementi propedeutici a portarci nei confronti dell'Africa ad affermare il principio socratico del sapere di non sapere e l'inizio del sapere quindi dobbiamo tutti confessare che questo continente il più vicino dall'Europa geograficamente con il quale abbiamo intresciato rapporti che ormai sono plurisecolari dall'arrivo dalla prodo dei dei primi portoghesi sulle coste congolesi con Diego Cao e anche dai primi racconti dello storico erodoto però è il più vicino ma è quello che facciamo più fatica a a conoscere perché abbiamo deciso che non lo possiamo conoscere in realtà non lo vogliamo conoscere la globalizzazione sotto questo punto di vista ci spinge in qualche modo anche proprio per le interdipendenze le interconnessioni che crea tra le varie aree del mondo a superare questo muro di impenetrabilità di inconoscibilità del continente africano e quindi porci nei suoi confronti in una visione più dinamica delle cose l'Africa come tutti i posti del mondo come tutte le società va visto proprio nel suo aspetto dinamico nella sua diacronicità ecco proprio in come la sua storia si è evoluta nel corso del tempo e purtroppo e quindi arrivo alle cose nuove purtroppo gli africani stessi hanno introiettato il paradigma della staticità della fossilizzazione della loro cultura e della loro civiltà l'hanno mumificato alcuni di loro per cui c'è stata una grande retorica dopo l'indipendenza sulla tradizione sulla cultura sulla autenticità addirittura si era riuscita a dire noi non vogliamo la democrazia perché l'autanticità africana diceva Mobutu vuole che il capo comandi e tutti gli altri fanno coloro che devono semplicemente obbedire c'è stata una distorzione della lettura culturale della tradizione da parte di alcune elite africane nei primi anni dell'indipendenza che non era altro che l'accettazione di quella staticità imposta dallo sguardo etnologico hanno accettato in questa logica che è antica nella cultura africana che parte dal momento della schiavitù quello che Frantz Fanon chiama la interiorizzazione dell'inferiorità dove tu finisci per autorappresentarti nel modo in cui gli altri ti hanno sempre rappresentato ed è la cosa più difficile da penetrare e da come dire scardinare all'interno dell'autorappresentazione secolare degli africani che si è sedimentato interiorizzando la propria inferiorità come dice Frantz Fanon oggi vedo che la generazione quella dopo quella di mio padre ha nei confronti della tradizione un rapporto più libero più laico appunto e mi è piaciuto molto mi piace molto la definizione del filosofo camerunese e Bussiboulaga la tradizione come memoire vigilante la tradizione come memoria vigile dove è qualche cosa che non sono costretto obbligato a ripetere ma che sono ma che è qualche cosa che sono obbligato di cui devo tenere memoria come memoria vigile appunto se è vigile implica un'idea di discernimento no quindi non più un taglio netto rispetto alla tradizione che c'è stato in alcuni contesti soprattutto nei paesi marxisti dove io sono vissuto in Congo Brazzaville tutto quello che era tradizione retrotera patrimonio culturale era vissuto come qualcosa di arretrato che nella fase avanzata della rivoluzione doveva essere in qualche modo ripudiato invece no c'è un rapporto vivo dinamico fecondo che ci può essere tra contemporaneità e tradizione tra conservazione e superamento tra salvaguardia di questo straordinario e unico patrimonio che è il serbatoio antropologico dell'Africa ma anche con la necessità di spalancare i propri orizzonti all'effervescenza alla novità dell'innesto di quell'innesto che avviene attraverso l'incontro con le altre culture e di quello troverete traccia oggi nella cultura nella letteratura negli artisti che dipingono che negli scultori nel teatro africano nel cinema africano che è un cinema assolutamente in grande effervescenza in grande sviluppo che produce come dire opere degne di essere secondo me viste riviste perché sono frutto di una elaborazione di uno specchio di se stesso utilizzando l'arte cinematografica che